Ciao ragazzi bentornati sul canale di mca mondo carri allenatori io sono sempre andre e oggi siamo qua ragazzi con un nuovo video sui top downgrades quindi giocatori che hanno ricevuto più downgrades di tutto fifa e credo che siamo arrivati all'ultimo più o meno episodio non so quanti nuovi aggiornamenti su overall lo cambia appunto di potenziali upgrade downgrade usciranno ancora da qui alla fine di fifa 21 sicuramente poi inizieremo più magari le prediction sui giovani talenti per i prossimi anni però sicuramente questo è l'ultimo video per andare un po' a completare quello che è sempre stato il format che ci ha accompagnato qui dall'inizio dell'anno ovvero i top upgrade e ora i top downgrade sicuramente l'uomo copertina o comunque il giocatore italiano che ha ricevuto più downgrade è stato proprio Sandro Tonali come vediamo proprio ora nel dettaglio è un giocatore che insomma probabilmente come abbiamo già detto anche in scorsi video proprio dove lo raffiguravano insomma è un giocatore che forse all'inizio aveva fin troppo potenziale per quello che ha fatto vedere soltanto in una stagione quindi sicuramente è un giocatore a cui avevano dato un sacco di potenziale e infatti quest'anno non è che si sia proprio espresso proprio al massimo tra infortuni comunque appena arrivato al Milan deve trovare un po' la sua dimensione doveva trovare un po' anche il modo di giocare perché comunque un conto essere sempre titolare sei il più giovane e diciamo non hai tantissima concorrenza ma in una squadra già come il Milan ha dimostrato di avere qualche problema in più a giocare sicuramente gli infortuni non l'hanno aiutato però sta di fatto che a inizio anno o comunque nell'ultimo aggiornamento aveva 77 di overall e 91 di potenziale quindi era molto alto adesso 77 di overall quindi più o meno è rimasto invariato ma secondo me l'overall è anche giusto che rimanga 77 ma con un 87 di potenziale quindi il potenziale è sceso di ben 4 punti ragazzi non sono pochi non sono assolutamente pochi però secondo me ora 87 potrebbe essere già il suo potenziale diciamo giusto insomma lo butto lì ragazzi commentate assolutamente voi cosa ne pensate perché comunque 87 è molto alto sono 10 punti crescita da 77 e secondo me ora potremmo ragionarci su assolutamente vedremo l'anno prossimo cosa farà se migliorerà o potrebbe essere anche che peggiori ancora ragazzi chi lo sa il secondo è Marcus Edwards un inglese che gioca al Vittoria Guimares anche lui ragazzi l'hanno praticamente ammazzato se si può dire così chiaramente per quanto riguarda FIFA nel senso buono del termine era veramente un bellissimo giocatore infatti a inizio gioco aveva 77 di overall e addirittura 89 di potenziale quindi veramente cresceva tantissimo ora di base ha un 76 di overall che vabbè in sé è sceso soltanto di 1 quindi ci potrebbe anche stare ma il potenziale ragazzi è 84 quindi meno 5 punti di potenziale totale meno 6 punti per questo ragazzo dall'inizio dell'anno o comunque dall'ultimo aggiornamento ed è un peccato ragazzi perché è un giocatore che in sé è veramente molto molto interessante allora prima cosa ragazzi costa un sacco di soldi c'è 17 milioni di valore 9.300 di stipendio ma con una clausola vittoria di 40 milioni di euro praticamente quindi ragazzi c'è già è un costo che insomma è abbastanza alto quindi non tutte le squadre se lo possono permettere però è una destra che gioca a sinistra quindi anche dalle caratteristiche speciali potete già capire che tipo di giocatore è un giocatore che va avanti dribbla rientra e calcia infatti le statistiche raga sono veramente fortissime è un peccato l'anno da un gredato è vero ma secondo me è ancora uno dei più forti assolutamente inglesi alla destra giovani guardate 86 accelerazioni 82 verità scatto 92 agilità 92 equilibrio quindi è veramente un giocatore interessante poi guardate dribbling 85 passaggio corto 72 potenza tiro 67 tiro dalla distanza 65 finalizzazione 65 quindi è veramente un giocatore fortissimo se vogliamo vedere per quello che costa così tanto però purtroppo ha ricevuto questi downgrade che vabbè insomma non fanno del giocatore assolutamente quindi sicuramente l'anno prossimo potrà rifarsi appunto classe e dribbatore tecnico come caratteristiche speciali caramoco denbele ragazzi arriviamo al punto clou di questo video credo anche l'uomo copertina perché questo ragazzotto qua vabbè 17enne era credo il più forte il più sopravvalutato a quanto pare però ragazzi stesso discorso che abbiamo fatto per sandro tonali potrebbe essere che il suo overall e il suo potenziale fossero troppo alti insomma per le aspettative ragazzi c'è da dire che comunque il suo overall è sceso soltanto di 1 mentre il suo potenziale è sceso soltanto di 3 perché dico soltanto perché inizio gioco aveva 64 di overall e 85 di potenziale adesso 63 di overall e 82 di potenziale quindi in realtà non è proprio uscito di tantissimo più o meno diciamo che nonostante gli avessero dato un bel boost a inizio anno più o meno più o meno ha confermato le aspettative più o meno anche se ha ricevuto un downgrade quindi di base non l'ha fatto però in realtà è un giocatore molto interessante che vale 1.2 milione quindi veramente pochissimo su FIFA è stato super 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 utilizzato quest'anno 4 abilità 3 di debole un mancino esterno destro proprio come Edward ma anche lui dovrebbe essere più un ala destra che un esterno molto basso ma che rientra e calcia molto bene è un giocatore che comunque è molto veloce 88 accelerazioni, 82 abilità scatto, 90 agilità e 91 equilibrio poi dal punto di vista tecnico rispetto a Edward è sicuramente un po' più acerbo ma ragazzi ci sono 4 anni di differenza quindi ragazzi ci sta che Karamoko Dembélé abbia ricevuto questo downgrade ma comunque 4 caratteristiche speciali a 17 anni sono tante tiro di precisione, classe, tiro da fuori ed elevatore tecnico quindi sicuramente lui e Edward due giocatori molto simili però sicuramente per chi preferisce Karamoko Dembélé a Edward anche per un costo economico quindi anche per un valore economico molto minore sicuramente è interessante peccato per questo downgrade Wilker Farinez ragazzi portiere dell'RC Lens venezuelano 22 anni a inizio gioco aveva ragazzi questo portiere 75 di overall e 85 di potenziale e voi direte ma chi è questo ragazzo? l'ho inserito perché credo sia il giocatore che ha ricevuto più downgrade di tutti perché adesso ha 74 di overall di base e 78 di potenziale quindi da 85 a 78 meno 7 punti di potenziale e sono tantissime ragazzi in totale tra overall il potenziale meno 8 punti dall'inizio dell'anno insomma si potrebbe dire che ha fatto una stagione disastrosa a dir poco le statistiche però in realtà non è che sono proprio così male è comunque un portiere diciamo nella norma ci sono tanti giocatori con e tanti portieri con queste statistiche il penultimo ragazzi è Giorgi Ciacvedazze scusate il cognome ma ragazzi la pronuncia ma questa è giocatore del Genk C.O.C. estero sinistro O.C.C. tra l'altro Georgiano che si chiama Giorgi veramente i genitori si sono sbizzarreti 4 probabilità 3 di debole anche lui lo abbiamo inserito perché nel totale ha ricevuto 6 punti meno in downgrade infatti questo ragazzo a inizio anno aveva 72 di overall 83 di potenziale ora 70 di overall e 79 di potenziale quindi meno 2 punti in overall di base e meno 4 punti in potenziale è sicuramente un giocatore che anche lui per quanto riguarda le statistiche non è assolutamente male innanzitutto vale 3 milioni e 5 quindi veramente poco poi guardate come esterno secondo me no come mezzale insomma potrebbe essere fin troppo offensivo a mio parere però per quanto riguarda il 3 quarti potrebbe assolutamente giocare senza nessun problema a livello tecnico veramente molto forte ha una buonissima visione 70 che come il suo overall come 3 quartista va assolutamente bene poi abbastanza veloce molto agile 78 con due caratteristiche speciali però infortunio facile purtroppo ma un driblatore tecnico molto interessante per insomma un ruolo come il 3 quartista e l'ultimo giocatore ragazzi è Deiber Caicedo giocatore del Vancouver Whitecaps FC colombiano estero destro o estero sinistro ma che è sicuramente più un alla destra o un alla sinistra appunto per il suo walker di attacco alto comunque mossaabilità 4 piedevole 3 quindi sicuramente è meglio far giocare prima sulla destra se si vuole far andare sul cross o sulla sinistra se gli piace un po' più calciare in porta 69 di overall con 78 di potenziale a inizio gioco invece 68 di overall e 86 di potenziale quindi in realtà questo giocatore sull'overall ha ricevuto anche un upgrade di un punto mentre nel potenziale ragazzi meno 8 cioè veramente l'hanno distrutto poverino vale 3 milioni e 100 mila euro guardate comunque molto forte ragazzi 84 accelerazioni 83 per scatto 87 agilità e addirittura 89 di equilibrio veramente difficile spostarlo poi una buona finalizzazione buona potenza tiro controllo palla 72 vedete cross 57 forse è meglio farlo giocare sulla sinistra e farlo rientrare per calciare perché a mettere i cross insomma poi derivatore veloce e derivatore tecnico come caratteristiche speciali quindi ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video spero che l'abbiate trovato interessante come tutti gli altri commentate ragazzi se secondo voi sono giusti o sbagliati questi downcrits se sono troppo pesanti se ci stanno eccetera iscrivetevi al canale lasciate un mi piace attivate la campanella commentate e noi ci sentiamo ragazzi